Evoluzione nel corso dell'azione, mani, mani! Sì, te lo ricordo, da stasera la Consol Jais sarà formata da Stefano Nocco, da Gabri Fasano, da Michi Nelpino! Da Iaco, da tutti gli ospiti che verranno da tutta Europa, mani, mani, questo è Jais e presto sarà con noi fisso al primè Claudio Coccoluto! Lei è gutta, a chi se baila? Quello che passa a chi è mucha cosa! Mani, mani, mani! Sì, te lo ricordo! 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 Eh! Er reinforced con tutte queste timestassenos apprezzo di moto, vai vai Giais Evoluzione 1995 Giais Giais Noi siamo tutti pazzi Siamo figli di una terra Non devi preoccuparti Noi noi siamo Tribunca e palla Tribunca e palla Tribunca e palla Tribunca e palla Regalami un sorriso Più su che c'è Più su che c'è Più su che c'è Giais Gabri Fasano Quinta marcia L'unotto termico Prende anche Capodizia Seguì l'inpeg Grazie